ciao a tutti oggi vediamo come creare una loop ovvero come replicare un'animazione senza bisogno di duplicare i keyframe per farlo useremo questa palette qua che si chiama looping è una palette che ho creato io e che potete scaricare gratuitamente dal link che trovate nella pagina di questo video una volta scaricata eccola qui la aprite con un doppio clic prendete il file looping gsx e lo andate a inserire all'interno della cartella script we panels che a sua volta si trova all'interno della cartella scripts del programma after effects poi riavviate after effects e la palette looping la ritrovate nel menu window esattamente qui in basso benissimo cominciamo come vedete qui nella composizione ho già creato un piccolo quadrato e ora faremo una semplice animazione sulla sua posizione quindi seleziono il quadrato nella timeline clicco il tasto p per mettere in evidenza la position e in questo caso voglio che l'animazione non cominci al tempo zero ma un po più avanti nella timeline quindi prendo il cursore avanzo e mi fermo più o meno a due secondi bene ora metto il quadrato nella posizione di partenza più o meno in questa zona qui ora accendo l'orologio della position per fissare la posizione di partenza avanzo qualche frame nella timeline all'incirca mezzo secondo e ora sposto il quadrato un poco più a destra facciamo più o meno in questa zona qui bene ora nella palette looping lasciamo le impostazioni attuali selezioniamo la proprietà alla quale vogliamo applicare looping quindi seleziono position nella timeline e ora clicco il bottone applica bene come vedete dall'inizio fino a due secondi non succede nulla dopo l'animazione si ripete all'infinito sempre uguale e questo è successo perché nella palette looping era spuntata soltanto la voce loop out se noi vogliamo che l'animazione venga ripetuta non solo dopo i keyframe ma anche prima allora dobbiamo spuntare anche la voce loop in proviamo attivo la voce loop in e per applicare questa nuova impostazione però dobbiamo riclicare il bottone applica quindi clicco su applica e adesso come vedete l'animazione viene replicata anche prima dei keyframe quindi con loop in e loop out attivi la ripetizione dell'animazione la si ha sia prima sia dopo i keyframe che sono stati messi sulla proprietà bene questo è il tipo di loop più semplice e banale che si chiama cycle cioè quello che ripete i keyframe dal primo all'ultimo all'infinito però esistono altri tre tipi di loop e sono ping pong offset e continue proviamo ad esempio ping pong però facciamo sì che funzioni soltanto dopo i keyframe quindi al momento disattiviamo loop in bene ora riclicco sul bottone applica e ora il loop è diverso al termine dell'animazione anziché ripetersi dall'inizio i keyframe si ripetono al contrario ripetendo l'animazione una volta in avanti e una volta all'indietro oscillando avanti indietro tra il primo e l'ultimo keyframe molto comodo per creare appunto movimenti oscillatori bene prima di proseguire con le altre due modalità voglio farvi notare che il loop vale con qualsiasi numero di keyframe se per esempio dopo questa animazione aggiungiamo un secondo spostamento in verticale per esempio lo spostiamo un poco più in alto qui e magari rendiamo anche il percorso rettilineo e per farlo prendiamo lo strumento pennino e clicchiamo sulla seconda posizione in modo che le maniglie che rendevano il percorso curvilineo spariscono come potete vedere l'animazione si ripete comunque allo stesso modo adesso andiamo dal primo al terzo keyframe e poi dal terzo al primo e via così e la cosa ovviamente vale anche per la modalità cycle proviamo ora impostiamo cycle riapplichiamo applica e come vedete l'animazione si ripete sempre dall'inizio replicando sempre le tre posizioni bene teniamoci i tre keyframe e ora vediamo gli ultimi due loop cioè offset e continue incominciamo con offset riclicchiamo sul pulsante applica e in questo caso la modalità offset non ripete l'animazione da capo ma aggiunge la stessa animazione a quella precedente e quindi incrementandola all'infinito proviamo adesso l'ultima opzione cioè continue applichiamola e in questo caso non si ripete tutta l'animazione ma il quadrato prosegue l'animazione conservando la velocità e la direzione dell'ultimo keyframe e la stessa cosa naturalmente vale anche per il loop in quindi se lo attivo e metto continue anche al loop in riapplico come vedete il quadrato arriva con la stessa direzione del primo keyframe e prosegue con la direzione dell'ultimo keyframe mantenendo la velocità costante proviamo anche a fare una preview benissimo ovviamente loop in e loop out possono essere impostati su opzioni diverse per esempio il loop in potrebbe essere impostato su continue e loop out ad esempio su offset e quindi riapplicando il looping noi abbiamo che all'inizio il quadrato arriva con la direzione del primo keyframe e poi prosegue l'animazione ripetendo i tre keyframe ogni volta incrementando la posizione precedente quindi offset e continue sono particolarmente adatti per creare delle semplici animazioni a velocità costante se noi eliminiamo il terzo keyframe e manteniamo soltanto i primi due keyframe e impostiamo entrambi loop in e loop out su offset quindi clicco applica noi abbiamo il quadrato che viaggia praticamente sempre a velocità costante ripetendo costantemente lo stesso spostamento sia dopo i keyframe sia prima i keyframe e lo stesso identico risultato lo tengo anche se imposto continue a entrambi loop in e loop out proviamo di nuovo il quadrato come vedete viaggia a velocità costante da sinistra a destra e posso regolare la velocità di questa animazione avvicinando allontanando i keyframe per esempio se li avvicino l'animazione è più veloce e se li allontano l'animazione è più lenta bene ora vediamo l'ultima funzione che possiamo aggiungere al comportamento di looping che è la loop duration e che serve a creare una pausa tra una ripetizione e l'altra quindi attiviamola e proviamo ad applicarla ad un loop con opzione offset magari disattiviamo di nuovo loop in e in loop out appunto attiviamo la modalità offset quindi una ripetizione che incrementa quella precedente e la durata della pausa tra un loop e l'altro la impostiamo qui a destra in questa casella qui che al momento è impostata su zero se noi per esempio inseriamo il valore 1 questo significa che ogni ripetizione avviene con un ritardo di un secondo rispetto a quella precedente proviamo e quindi abbiamo l'animazione da sinistra a destra poi abbiamo una pausa e poi a tre secondi vedete che l'animazione si ripete poi di nuovo pausa poi di nuovo a 4 poi di nuovo a 5 ma come avete notato l'offset riprende un secondo dopo l'inizio cioè il keyframe che fa riferimento è il primo e non l'ultimo quindi il primo keyframe è a due secondi un secondo dopo siamo a tre e quindi qui torna di nuovo in funzione l'offset e quindi di nuovo torna in funzione a 4 a 5 a 6 e così via bene bisogna dire che la funzione loop duration si comporta diversamente per ogni tipo di loop per esempio se noi usiamo il loop continue riapplichiamo in questo caso come vedete l'opzione continuo ignora completamente loop duration non c'è nessun ritardo nella ripetizione dell'animazione semplicemente il quadrato mantiene la sua velocità e direzione costante dopo l'ultimo keyframe se invece proviamo a impostare la prima opzione cioè cycle e riapplichiamo di nuovo abbiamo questo comportamento qui cioè dopo l'animazione il quadrato torna immediatamente alla posizione iniziale attende che scada il secondo di pausa e poi a tre secondi ripete l'operazione però ogni volta si rimette immediatamente nella posizione di partenza proviamo adesso a vedere cosa succede se impostiamo l'ultima opzione cioè ping pong quindi abbiamo l'animazione in avanti l'animazione indietro la pausa e vedete che questa volta anziché riprendere a tre secondi riprende a quattro secondi cioè nel caso di ping pong l'animazione si ripete non un secondo dopo ma due secondi dopo cioè il doppio del tempo perché dobbiamo tenere conto un secondo per l'andata e un secondo per il ritorno e quindi il tempo di pausa che noi impostiamo qui sulla destra viene raddoppiato nel caso in cui usiamo ping pong come opzione di loop benissimo naturalmente tutto quello detto fin qua vale anche se applico il looping ad altre proprietà alla scala la rotazione all'opacità e qualsiasi parametro di qualsiasi effetto e questo magari lo potete provare da soli bene sperando che questa palette possa tornare utile alle vostre animazioni vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao